Ciao! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 10 del Livre Rocher che valido fino al 23 agosto del 2017. Vedrete subito che è un album pieno di colore con tantissime offerte make-up, tante novità per la cura del viso, tante promozioni per la cura del viso e del corpo e tanti omaggi. Quindi direi di iniziare subito a sfogliare questo album. Allora, eccoci già la copertina dell'album e l'indice. Vediamo che tutto ha in segna del colore, ma vediamo nel dettaglio. Ecco, prima cosa sono gli smalti. Due smalti a solo 5 euro. Scegliete voi i colori tra quelli che preferite, eccoli qui, questi o quelli nella pagina prima, cioè tutti proprio. E nel primo col codice nero, il secondo col codice rosso, colori che volete, 5 euro. E' davvero, per l'estate una buona promozione. Andiamo avanti perché invece abbiamo iniziato a guardare tutti i colori qui, questi e questi, tutti gli ombretti, a 7,95€ l'uno, invece che 9,95€. Davvero all'insegna del colore questo album. Iniziamo con le promozioni, perché questi sono i prodotti viso. Con l'acquisto di 15€ si ha in omaggio la maschera di datazione intensa. Eccola qui, nel formato questo che è speciale anche da viaggio, è comoda, e comunque è una maschera adatta all'estate. Ve la garantisco perché l'ho provata e recensita. Tra 15€, ma adesso vi mostro prima di tutto la novità, perché dei prodotti, eccoli qua, per la cura del viso, si ha il nuovo maxi formato colpe con il dosatore, che è davvero comodo. Intanto, ve lo faccio vedere, eccolo qui. Ad esempio, ho il gel detergente freschezza. La confezione è un 390ml e viene in offerta a 9,95€. Davvero questi sono sì comodi da utilizzare. Oppure c'è anche l'acqua micellare idratante 2 in 1, sempre 390ml, in promozione a 11,95€. Ma guardiamo la promozione per i set, perché abbiamo la crema gel idratazione intensa 24 ore, più l'acqua micellare 2 in 1, formato grande, questo qua il nuovo, 16,95€ e vedete subito che è una super promozione. E in più, con 15€, quindi l'abbiamo già superati, si è in omaggio la crema idratazione intensa. Altro set, eccolo qui, a 15€ il gel detergente freschezza, questo con il flaccone nuovo, e la gel crema idratante 24 ore, sempre stesso discorso 15€. I 15€ valgono ovviamente non solo per i set, ma anche per tutti gli altri prodotti. Ovviamente, nel nuovo formato c'è anche la linea SIBO vegetal, quindi il gel detergente purificante, sempre a 390ml, oppure l'acqua micellare purificante, sempre grande, col flaccone dosatore. Vediamo i set, set di terzione più trattamento, abbiamo il gel detergente purificante grande, più il gel crema opacizzante da 50ml a 16,95€, oppure il set di terzione, con sempre il gel crema opacizzante, più l'acqua micellare purificante 2 in 1, sempre nel formato grande, a 17,95€. Maxi formato, sempre anche per l'altra linea, quindi i Sensitive Vegetal, l'alter detergente lenitivo, sempre a formato grande, e l'acqua micellare lenitiva 2 in 1, sempre nuovo formato grande. Oltre a tutti i flaccoli si possono anche riutilizzare, perché no? Vediamo i set, Detersione più trattamento, il crema idratante lenitiva da 50ml, più l'acqua micellare lenitiva 2 in 1, flaccone grande, 17,95€, oppure il set di terzione più trattamento, 16,95€, con il latte detergente lenitivo, e la crema idratante lenitiva. Di questi set, volendo, si possono cambiare le creme, quindi sempre l'acqua micellare lenitiva 2 in 1, più è, invece della crema idratante, la crema idratante antirossori, a 19,95€, usando il codice questo qua sotto. Stessa cosa si può cambiare anche l'altro set, quindi si può avere la crema antirossori, e del latte detergente lenitivo a 18,95€. E questi erano i set, ora vediamo tutti gli altri prodotti, andando avanti, eccoli qui sono tutti questi prodotti, che comunque con 15€ si ha in omaggio la maschera idratazione intensa, quindi anche la BB cream, i trattamenti, ecco di qua, per il viso, tutti quanti gli altri trattamenti per il viso, ma nel mento ci soffermiamo su questo set, della Serum Vegetal, che ha latte detergente levigante, più il trattamento rimpolpante giorno, a 17,95€. Stesso discorso, i prodotti singoli, i set, sempre per 15€ per averlo a maggio, e andiamo avanti con l'altro set, che ha 19,95€, il latte detergente levigante, più il trattamento modellante giorno, da 50ml, a 19,95€. Poi andiamo avanti, come sempre, altro set, trattamento levigante giorno, a 50ml, e il latte detergente levigante, da 200ml, a 16,95€. Non ve lo ripeto più, perché è sempre uguale. Senta anche tra questi, la linea anti-grish global, eccola qua, la L'Agrish Creme, Lifting Bio, e ci fermiamo con la Zero Default, eccola qua. Fino a questa linea per il viso, ogni 15€, si ha in omaggio, la maschera idratazione intensa, per il viso. Ora vediamo, gli omaggi, per quanto riguarda il corpo, quindi, con 15€, di prodotti per il corpo, che ora vi mostro, si ha invece in omaggio, il latte idratante, per il corpo, questo, eccola qua, con la formula, con l'aloe, che è perfetto, per l'estate, perché è comunque, un latte leggero, riassorbe immediatamente, ma idrata benissimo. Anche di questo, ve ne ho parlato, ma ora vediamo i prodotti. Eccoli qui, tra tutti questi, 15€, con l'omaggio. anche questi. Quelli per le mani, eccole qua, e i prodotti per i piedi, quindi, fine cote per i piedi, 15€, e si ha in omaggio, il latte idratante, per il corpo. Vediamo ora, i set per la doccia, perché abbiamo, due bagno a doccia, da 400 ml, solo 6,95€, le profumazioni, tra tutte quelle che ci sono, e le scegliete voi. Quindi, il primo col codice nero, il secondo col codice rosso, come sempre, e abbiamo, mango e coriandolo, noci di cocco, vaniglia, barbon, lampone, menta piperita, mandarino, limone, cedro, oliva e petit grain, lavandina e mora, mandorle e fiori d'arancio, albicocca e rosmarino, pompelmo e timo, fiori di chiaree, yin yang, ed è fiori di loto, e salvia. due, e a 6,95€, il primo col codice solito, il secondo col codice nero, come sempre. Questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto l'album, e come sempre, vi ricordo che qui sotto, nell'info box, c'è il link per contattarmi, per le informazioni, e per gli ordini. Poi c'è sempre anche il link, per scaricare il catalogo, in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo, su tutti i vostri dispositivi, e come sempre, vi ricordo che, c'è tutto, io sono sempre a disposizione, e vi auguro buoni acquisti, e naturalmente approfumati, con il Magico Naturale Mondo, di Brochet.